distruggere per divertimento potrebbe essere stato questo il velenoso ragionamento di alcuni adolescenti che circa un mese fa hanno ben pensato di combinare questa deplorevole ragazzata le telecamere di rossini tv oggi si accendono qui nel camminatoio di montecchio un camminatoio da poco risistemato dalle comune di valle foglia e che collega la zona grotte alle monte di montecchio un percorso immerso nel verde percorribile a piedi ma anche in bicicletta che però è stato danneggiato e deturpato da alcuni giovani parte della staccionata di legno lungo la stradina è stata infatti abbattuta e data alle fiamme venendo poi gettata nel dirupo mandando all'aria parte dell'investimento fatto in questi ultimi anni dal comune che mai si sarebbe aspettato un'inciviltà simile innanzitutto bisogna dire che un bel investimento di oltre 500 mila euro grazie al comune consorzio di bonifica di sistemazione di alcuni piccoli movimenti franosi e di un parco un percorso ciclopedonale prevalentemente pedonale che diventa il parco nel cuore di montecchio di valle foglia in secondo luogo credo che il consorzio di bonifica abbia già fatto la denuncia per atti vandalici di gente che non si capisce perché dovrebbe rovinare un'opera pubblica penso che ci sia necessità di una sorveglianza e di interventi severi da parte ovviamente delle autorità competenti a cominciare dai vigi ai carabinieri e soprattutto una necessità di educazione da parte delle famiglie delle scuole tutti quelli che devono educare le persone a rispettare bei interventi di questo tipo che vengono fatti dalla pubblica amministrazione perché sono cose dei cittadini quindi buona educazione rispetto delle regole tolleranza zero perché io non ho pietà per coloro che rovinano la cosa pubblica che la cosa di tutti i cittadini le telecamere presenti e installate nella città di valle foglia sono numerose così però come sono numerose le responsabilità educative dei genitori e della scuola le telecamere sono tantissime si stanno rivisitando il problema è di educazione non si può mettere una telecamera per ogni cretino che che fa e rovina la cosa pubblica bisogna cercare di rispettare tutte le strutture private ma anche soprattutto quelle di tutti i cittadini quella pubblica le telecamere oltretutto ce ne sono già tantissime stiamo facendo l'appalto per l'aggiornamento e il buon funzionamento però non c'è telecamera che tenga contro la cretinaggine la fesseria e diciamo la stupidità di coloro che rovinano le cose pubbliche e anche se ci sono stati più elevato per l'aggiornamento e le cose pubblicano e le cose pubbliche Grazie a tutti.